ciao a tutti sono jaffer mariani coach motivatore abito berlino e mi occupo soprattutto i clienti che escono da una separazione o che hanno perso il lavoro clienti che si trovano in una situazione in cui hanno l'impressione di essere in un tunnel un tunnel senza fine un tunnel senza porte a destra a sinistra e in una serie di video voglio raccontarvi delle tecniche semplici ma specifiche per cercare di uscire da questo tunnel di tristezza una di queste tecniche la tecnica dei colori che ha funzionato con i miei clienti non solo i momenti di tristezza ma anche i momenti di dolore quali emicrania è una tecnica molto semplice ma molto efficace immagina chiudendo gli occhi che in questo momento tutto il tuo dolore la tristezza sia nel colore rosso immagina che tutti i tuoi sentimenti i tuoi pensieri tutto si colore di rosso come se fosse una stanza rossa rimane alcuni minuti su questo colore e lascia che ogni forma ogni cosa che tu vedi più dentro gli occhi si colore di rosso lascia sfogo al tuo dolore poi lentamente con l'immaginazione porti tutto il colore rosso verso il verde immagini che ogni pensiero ogni cosa che tu vedi più dentro gli occhi può darsi che vedi delle forme delle persone delle cose si trasformi in verde come se tu entrassi dal rosso in una stanza verde e rimani per alcuni minuti su questo sentimento di verde poi lentamente passi dal verde a una sensazione di colore blu e tutti i tuoi sentimenti i tuoi pensieri si colorano di blu mentre fai questo passaggio al verde al blu senti sempre più un sollievo come una carezza tu puoi ovviamente anche cambiare i colori se per te per esempio il colore blu non è un colore di sollievo ma per esempio forse il colore bianco puoi anche passare dal rosso lentamente sempre più lentamente verso il bianco quindi uscire lentamente da questo rosso per arrivare al sollievo al bianco è una tecnica molto semplice ma molto effettiva per molte persone non per tutte però deve per forza funzionare e non in ogni momento se vuoi sapere di più sul mio lavoro e di come motivo le persone vai sul mio sito www.iaffetmariani.com altrimenti io ti auguro una bellissima giornata alla prossima ciao